Con il Presidente del Pescara per commentare probabilmente il miglior Pescara dell'ultimo periodo, questo è fuori discussione soprattutto nel secondo tempo ma anche la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Sicuramente il miglior Pescara e quindi questo ci fa ben sperare, poi è chiaro ci siamo addormentati su quella palla, abbiamo preso gol, poi è difficile perché comunque Lavellino è una buona squadra, è una squadra che è in salute in questo momento, sta facendo molto bene. Però noi oggi usciamo soddisfatti non del risultato ma sicuramente dall'impegno, del gioco, siamo tornati il Pescara che vogliamo vedere, secondo tempo credo che avremmo meritato tranquillamente il pareggio. Forse anche qualcosa in più la mia opinione. Ma io non so se qualcosa in più ma sicuramente il pareggio, poi io non voglio commentare, sapete che non commento mai l'arbitraggio però obiettivamente oggi Cuppone va in ospedale e secondo l'arbitro è uno scontro di gioco. Colai non so che cose gli devono fare per darti un rigore però va bene così. Ripartiamo, riguardiamo il secondo tempo presidente, squadra aggressiva, squadra che mette alle corde un Avellino che nelle ultime cinque aveva subito una sola rete, la giocata di Colai per Tupta valeva il prezzo della biglietto, è stato strepito Sopane. Sì, sì, è stato bravo il portiere ma devo dire, ripeto, oggi usciamo sconfitti ma usciamo, se il Pescara è questo siamo vivi e io sono assolutamente soddisfatto perché la squadra nel secondo tempo credo che abbia Avellino, a parte un paio di ripartenze che ci può stare quando tu cerchi di parigiare la partita, credo che non sia mai arrivato davanti al portiere e poi tra le altre cose abbiamo costruito almeno 7-8 palle gold che non siamo stati bravi a finalizzare però la squadra ha giocato come ha giocato nelle precedenti partite dove avevamo visto il Pescara. Allora io Presidente le faccio due domande prima dello studio con Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, la prima chiaramente sul mercato perché ora apre ufficialmente diciamo così il mercato, il Pescara ha avuto tanti problemi in questa stagione nel concretizzare le tante palle gold, si soffermeranno lì i vostri sforzi? Ma vedremo, vedremo perché ripeto il primo punto è che devi avere posto in lista, noi ne abbiamo già 26, abbiamo già due fuori in questo momento e quindi bisogna prima fare le uscite e poi pensare alle entrate perché senza fare le uscite non vai a nessuna parte. Tupta le è piaciute da numero 9? Molto, molto bene tutta ma bene tutti, Colai è entrato non bene, benissimo, ha grande qualità ma tutti quanti bene quindi oggi non posso dire, posso fare i complimenti ai ragazzi, poi purtroppo il risultato è negativo ma la squadra ha giocato. Le faccio l'ultima io, la Procura Federale ha fatto richiesta di riaprire il procedimento relativo alla plusvalenza per Juventus e altri otto club tra cui il Pescara. Ero tranquillo prima e sono ancora più tranquillo adesso dopo aver letto quale sarebbe l'operazione incriminata perché poi se c'è... Quale è si può dire? Ma credo che si ritratti di Brunori e va bene, evidentemente noi siamo veramente troppo bravi nello scegliere i giocatori e poi valorizzarli perché se Brunori è un problema vuol dire che ci dobbiamo fermare proprio di fare il calcio. Però questo è un qualcosa che viene sicuramente per via della Juventus, dimostra il fatto che Napoli è fuori perché non ha fatto operazioni con la Juventus. Quindi se poi c'è una società che non sta a me giudicare perché non voglio entrare nel merito di cose che non mi riguardano, che secondo la Procura realizza un certo tipo di operatività e ne fa una strategia, non è sicuramente un problema di chi per anni, e lo dimostra la storia, ha venduto giocatori dappertutto facendosi pagare i giocatori, non facendo lo scambio delle figurine. Quindi sono assolutamente tranquillo anche questa volta. Studio per il Presidente Sebastiani. Fabio Ferrarisi. No, io non ho nessuna domanda, mi ritrovo d'accordissimo con le dichiarazioni del Presidente. Faccio soltanto un augurio di Buon Natale e di ricompattare magari un pochino lo spogliatoio che forse in questi ultimi giorni poteva aver perso un po' di entusiasmo anche per via di qualche dichiarazione, secondo me è fuori luogo. Quindi niente, ti faccio un grande augurio di Buon Natale. Grazie a tutti. Comunque merita rispetto, ma soprattutto anche per i compagni, perché se ognuno che gioca una partita in meno fa dichiarazioni, allora diventiamo un mercato.